Siamo con Felice Gualdoni, che cosa sta avvenendo in questo momento? Non lo so, un gran casino, non si capisce. Che cosa ha organizzato? No, qui non è organizzato, qui siamo amici che vogliamo fare una nuotata nel naviglio, basta. Senza nessun scopo di lucro? Senza nessun scopo di lucro, di divertimento, fa caldo e bello fresco per rinfrescarci, solo è una cosa interna, è una amicizia. Come puoi vedere di amici ce ne sono tanti e ne arriveranno ancora tanti. Partite da dove? Partiamo da Pregnana si chiama, mi sembra. Padregnana. Padregnana. E arrivate a? Arriviamo qua, a Bernate. Qui davanti alla Canonica. Davanti alla Canonica, bravo. Buon buon nuotata, buon bagno. Grazie. E state attenti che siete tanti anni. Certo, l'importante è che non ci fermano i vigili in acqua. Ciao ragazzi, buon buon giro. Ciao. 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 E aspettiamo gli altri. Oh, c'è un divieto di balneazione qui. Ragazzi, c'è un cartello di vieto di balneazione. Vedi. Ragazzi, tre. Piano, francesco. Piano, eh. Ci ha detto un dopo. Eh, sì, vedi. Ti fa mangiare o no? No. Perché? Eh, ho duemila cose da fare. Ciao. Qua è la... Stile di Miri. Eh? Stile di Miri. Gli anziani per ultimo. Il vizio scopa, il vero senso della parola. Stiamo felici. Scopa, scopa, stupendo. No, no, che piccata. Nostri impavi di eroi all'orizzonte. Qualcuno si sta già ancora preparando. Qualcuno si tuffa. Eccoli in arrivo. No, 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 che piccata. No, 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 che piccata.